Anch'io ho cercato durante il mio viaggio di pulare il meno possibile e all'inizio ho detto dai che lo faccio senza prendere neanche un aereo, invece una volta arrivato Benin ho fatto dal Marocco fino al Benin via terra, in Benin non sono uscito a continuare via terra perché c'era Nigeria, è stato provato a tenere il visto sia in Togo che in Benin, però non c'è stato verso e quindi ho dovuto prendere un aereo per pulare direttamente in Congo, in realtà ci sarebbe stata la maniera, però poi il giorno di poi, nel senso che il visto di Geniano te lo fanno in Ghana, col parto dopo, e quindi dopo la prima volta che ho preso un aereo ho detto vabbè, poi mi sono rovinato, io ho cercato sempre di prendere il meno aereo possibile, però poi appunto si è dimostrato, non dico indispensabile, ma quasi, per farmi troppi problemi io ho preso anche un po'